Spegni la radio e salta la porta, se no ti sfregia per la vita. Noi. A presto. Che cosa fischi? Perché non picchi? È picchia. Picchia! Mamma, vieni giù. Che fate? Che fate? Vieni giù. Vieni! Vieni giù. Ha usato il coltello. Non è vero. Si è ferito da sé. Dice che sono stato io per buttarmi fuori di casa. Hai fatto così, vero? No. No. Sì. Sì. Si è fatto furbo, Gavino. Ma questo cervellino qui... Mi ammazza. Sì. 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 Io torno in continente. Sì, è meglio. Ma come parti? Domani mattina c'è un treno alle sette per Porto Torres. No, parto stasera. Con la corriera? Sì. Vai a prendermi il cappotto. Io vado a prenderti la valigia. Ma la valigia è sotto il laccio del papo. È vero, è di là. E chi ci va? Ci vado io. Devo prendere la valigia. È vero. È vero. È vero. Grazie.